e bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video finalmente siamo nello speciale 5 iscritti prima di tutto voglio salutare Andre che sempre mi ha seguito ha guardato i miei video e è il quinto iscritto ti ringrazio, mi sono iscritto al tuo canale e se vuoi puoi entrare nel club mio nel mio club che si chiama Repower Team entraci dopo faccio vedere dopo e così puoi partecipare al video insieme a me lo dico dopo in questo video vi andrò a fare insieme a Luca una sfida in poco parole ammazziamo prima tutti i bot poi dopo anche se ci vediamo ci giriamo senza ammazzarci poi dopo ci ammazziamo quando rimaniamo in due iniziamo subito il negozio ok attiviamo le telecamere ok ragazzi ok ragazzi ecco questo qui è il club Repower Team perfetto iniziamo io uso Piper andiamo vabbè andate domani ok ragazzi se volete essere salutati in video scrivete nella chat hashtag mi saluti e oppure hashtag salutami ah già ci siamo incontrati subito bella ah beh dai scriviamo ok io al secondo magari e in poche parole ragazzi chi sarà iscritto verrà salutato non in un video in più video magari tre o quattro e nello speciale iscritti e non giocare con noi esatto si potrà poi c'è una gestita magari senza morirci ok raga non so quando ci riusciremo sono le cose impossibili vai gioco evita di morire ho fatto un ferro ok va bene evita di ammazzare chi si è morto è comune eh vabbè che mi ha avventato perché io ho due gadget invece che tre questa è la bella cosa ma tu c'hai due gadget io ci faccio due come due gadget è il gadget il corpo mi sono morto si è 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 morto ok per favore ciao baby dai ecci ecci ok ok va bene ora evito pronte ok anche te ok luca incredibile 5 rispetti ragazzi ottimo paura per me quindi se ci moldiamo tu non mi puoi aiutare no scontro finale non si può uscire che schifo devo morire da sotto è impossibile ragazzi sopravvive non ti so dai allora evitiamo di morire evitare la gente ok allora apriamo calze vabbè anzi facciamo scontro 0-0-8 quanto ci sono non nel centro tu non ce l'hai il centro qua c'è niente che intacchi io ho preso il centro eh sì grazie si può ammazzare i bot anzi dobbiamo ammazzare comunque muogliano solo quelli perché sono solamente scherzi solo no più massimo ah non so più cosa fare non si vede la stabilità alla fine che figata guarda il colpo supremo ok mi sono in trinità però mi sono in trinità ma sto risolvendo incredibile per favore non morire per favore siamo in tre ecco la mamma ok bro il muro genera vita il centro un attimo un attimo vai lontano non vale eh sì però mamma questo me l'ha e basta vai via lo dico io via io io oh skill 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 no 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 vola vola suca ragazzi al 100% siamo sicuri che Luca è il campione è fortissimo ragazzi ok possiamo anche disattivare la telecamera prima faccio vedere il club velocemente ecco qui il club entrate ah ma hai trovato seguito si ragazzi si ok stoppiamo registrazione ok ok facciamo qualche partita insieme no conclusione del video ragazzi io sto speciale ragazzi iscrivetevi verrete salutati e così non perdete nessun video vi arriverà la notifica non su youtube cioè su youtube anche ma sul dispositivo si attiva la campanellina quindi su telefono vedete anche su computer ragazzi se vi iscrivete verrete salutati non in un video non in due ma in tre o magari anche in quattro se volete essere salutati magari in una volta solo cioè se iscrivete magari nei commenti hashtag salutami oppure hashtag mi saluti tutto attaccato tutto maiuscolo potete essere salutati una volta solo e ragazzi ci vediamo noi al prossimo video iscrivetevi così farò un prossimo speciale iscritti special 10 iscritti ragazzi ringrazio di nuovo andrea voglio dire andrea se vuoi partecipare al video naturalmente ci mettiamo d'accordo con la chat del club quindi tra il mio ero papattino oppure magari proprio se tu hai creato un club posso entrare nel tuo dato che tu hai due iscritti di me noi possiamo anche giocare insieme ci mettiamo d'accordo un aggetto tipo vieni stasera alle 7 di sera è così si fa così lo so è questo è il dispositivo di rossalto e poi bene ragazzi per questo video è tutto io vi ricordo di iscrivervi se non siete iscritti ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao